Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica nutrizione e benessere. Questa settimana parliamo di un alimento probabilmente poco noto, di origine medio orientale, che però negli ultimi tempi si sta conquistando una buona fetta di consumatori anche in occidente, grazie al suo gusto, a un costo non eccessivo e ai suoi valori nutrizionali. In effetti lo possiamo trovare anche non solo nei negozi biologici o specializzati di prodotti orientali, ma adesso è facile trovarlo anche nei supermercati. Stiamo parlando del bulgur. Il bulgur come detto è un alimento a base di cereali, in particolare è ottenuto dai semi integrai e germogliati del frumento duro, quindi il classico triticum durum della famiglia delle gravinacee e in particolare viene ottenuto dal frumento germogliato, cotto, essiccato e infine spezzettato. In effetti l'altro nome con cui è conosciuto il bulgur è proprio grano spezzettato e se viene spezzettato in grani più fini si ottiene appunto un bulgur detto a grani fini che viene utilizzato in cucina soprattutto per piatti freddi, per delle insalate, mentre invece se viene spezzettato in grani più grossolani viene utilizzato soprattutto per piatti caldi, quindi di zuppe, minestre. Questo di cui stiamo parlando è un bulgur ovviamente già precotto che quindi quando lo andiamo a utilizzare in cucina necessita di essere ravvivato in acqua per almeno una mezz'oretta. Esiste anche un bulgur crudo che ovviamente prima di essere utilizzato va necessariamente sottoposto a cottura. quali sono le proprietà del bulgur? Allora per 100 grammi apposta all'incirca 340 calorie. Contiene sali minerali, potassio, fosforo, calcio, magnesio ma anche vitamine come vitamina A e vitamine del gruppo B. È un alimento le cui calorie come detto 340 quindi mediamente o alto calorico che derivano essenzialmente dai carboidrati complessi. Ha un indice glicemico medio-alto paragonabile a quello del pane integrale, l'indice glicemico lo sappiamo è importante soprattutto per tutti ma in generale più importante per i diabetici. Contiene però anche proteine a medio valore biologico e lipidi quindi acidi grassi insaturi. Come detto derivante le calorie essenzialmente dai carboidrati è un alimento che ci aiuta a raggiungere quella quota di carboidrati che giornalmente dovremo consumare che si vada a testare tra il 55 e il 60% delle calorie giornaliere. Per il resto è molto ricco di fibre quindi le fibre sono quelle sostanze che ci aiutano a regolare il transito intestinale che ci inducono un ottimo senso di sazietà e questo vale anche per chi segue una dieta ipocalorica ovviamente prestando attenzione alle quantità che ci vengono segnalate ma le fibre aiutano anche a regolare l'assorbimento intestinale di colesterolo ma anche degli zuccheri quindi importante anche per i diabetici. Come detto contiene fosforo e calcio quindi sono minerali importanti per l'apparato osteoarticolare ma anche potassio che è importante per l'apparato cardiocircolatore muscolare. Essendo un prodotto a base di cereali integrali è un alimento che in una sana alimentazione un po' tutti potremmo inserire in particolare anche chi ha problematiche relative all'apparato cardiocircolatorio. Vi sono anche ovviamente delle contraindicazioni a consumo del bulgur, sicuramente i ceriaci perché comunque contiene glutine, le fibre in eccesso possono dare un senso di gonfiore o comunque dei disturbi intestinali se consumati in eccesso e la porzione ovviamente è una cosa a cui tenere, a cui fare attenzione, questo non solo per i diabetici e per le motivazioni di cui dicevamo prima ma anche per i soggetti in sovrappeso o obesi. E come ultima cosa se ne sconsiglia in generale il consumo di tutti quei soggetti che hanno delle patologie soprattutto relative all'apparato gastrointestinale per cui in generale gli è sconsigliato il consumo di prodotti integrali. Ma per il resto possiamo dire per concludere che pur essendo come dicevamo un alimento poco conosciuto è un alimento che invece in un'alimentazione equilibrata normale di tutti i giorni potremmo e dovremmo inserire. Bene, per approfondire altre notizie sul bulgur vi rinvio all'articolo che trovate sul sito, sui social di Cilento Channel come anche sulla mia pagina Facebook studio nutrizione e benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email a nutrizionericci.it per fare domande o proporre argomenti da trattare nella nostra pubblica settimanale e vi rinvio appunto alla prossima settimana per un nuovo appuntamento della pubblica nutrizione e benessere. Ciao!